Andrea Rinaldi è professore di composizione architettonica alla Facoltà di Architettura di Ferrara e socio del Laboratorio di Architettura Architetti Associati. L'intervento di oggi trattava il tema di un prototipo realizzato a Roma in occasione di un concorso che si chiama Colluoghi, bandito dal Ministero dell'Ambiente e da Union Camere e dall'Associazione Mecenate 90. Il nome del prototipo Zero Positivo va a sintetizzare il concetto di una costruzione a zero energia, a zero consumo di materiali prime, a zero rifiuti, a chilometri zero, ovvero che utilizza i materiali coltivati nell'orto all'interno della stessa abitazione e un'abitazione anche a zero consumo di acqua nel senso che recupera tutta l'acqua piovane. Il concetto di questo prototipo è di una casa, interpreta il concetto della sostenibilità come una casa molto semplice, quindi la sostenibilità come elemento molto semplice, una casa leggera, ma non leggera perché pesa come una piuma, ma solamente per il principio che è una casa che è costruita in modo esatto, con pochi elementi, quindi riducendo le cose, non aggiungendo le cose. E' una casa mobile, non perché gira sulle ruote, ma semplicemente perché può essere mutevole, cioè può rincorrere quelle che sono le mutazioni all'interno del percorso della vita che ha l'utente. La casa è costituita da un recinto con dentro questi 45 metri quadrati abitabili e tutta la casa ruota sul concetto di un consumo zero di energia, cioè il principio che la casa deve diventare un accumulatore di energia, quindi la casa come una banca di energia e la casa come una banca di materie. Essendo costruita interamente secco, la casa è in grado di trattenere all'interno questi materiali che una volta dismessa possono essere smontati, quindi prima accoppiati in maniera secca, poi dopo disaccoppiati dalla struttura e riutilizzati per altre cose senza produrre rifiuti, cosa che invece l'edilizia adesso produce circa il 60% dei rifiuti che attualmente produciamo come società. Grazie.